Allora un applauso per raccogliere Adele Savarese sul palco di Medioera. Grazie e buonasera a tutti. Vorrei fare un piccolo viaggio con voi, un viaggio veloce, un viaggio nel tempo per ripercorrere quelli che sono stati i momenti più grandi, i momenti principali in cui il marketing, la tecnologia hanno cambiato il modo in cui noi da consumatori e da persone viviamo prodotti, servizi e marche. Per cui seguitemi in questo viaggio, tenete le braccia e i piedi all'interno della vettura e partiamo non da troppo lontano. Iniziamo, puntiamo la nostra macchina del tempo al 2001. Nel 2001 questo signore, Steve Jobs che tutti conosciamo, decide di mettere mille canzoni nella tasca di ognuno di noi. È una piccola grande rivoluzione perché con un singolo prodotto ci ha abituato, ha creato in noi l'aspettativa di utilizzare prodotti di design altamente funzionali e attrattivi per tutti, una vera e propria moda. Con questa campagna iconica, ce la ricordiamo tutti, che cosa succede? Nasce una vera e propria tribù. Di che colore erano gli auricolari prima di Steve Jobs e dell'iPod? Erano neri. Da questo momento in poi saranno bianchi per permettere a chi è un possessore di un prodotto Apple o di un iPod di riconoscere chi aveva di fronte e di riconoscere l'altra persona affine a se stessa, parte della tribù Apple che conta tantissimi prosediti ancora ad oggi. Quindi nel 2001 inizia ufficialmente la nostra odissea nello spazio del marketing e delle esperienze di consumo. Cosa succede in questi anni? Sono gli anni del web 2.0, un termine ormai quasi già tanto abusato. Nasce Wikipedia, nasce l'attività partecipativa e collaborativa alla costruzione dei contenuti sul web. Andando avanti, iniziamo ad aggregarci online nei forum, i primi social network. In questi anni molto confusi, c'è molto fermento, oserei quasi chiamarli il medioevo del digitale, il medioevo della tecnologia. C'è molta confusione andando avanti su che cosa? Perché tutti possiamo far sentire la nostra voce, possiamo pubblicare articoli sui blog, commentare quelli altrui. Ma la nostra identità è ancora un po' confusa sul digitale. Pensiamo a MySpace, la prima piattaforma social con questa belletà, non eravamo ancora noi stessi, non usavamo un nome e cognome, usavamo un soprannome, usavamo un nome finto, raramente usavamo il nostro nome reale. Tom Henderson, il fondatore, non aveva le idee molto chiare su cosa volesse realmente il consumatore di queste prime piattaforme digitali. Di sicuro è stato il nostro primo amico e è colui che ha aperto le porte alla condivisione della propria vita su quella che si è trasformata poi in una vetrina online. Arriviamo al 2004. Nel 2004 Mark Zuckerberg con l'invenzione che tutti noi conosciamo ci rende appetibile, ci rende di moda essere finalmente noi stessi, solo noi stessi. Quindi raccontare la nostra vita, pubblicare le nostre foto, foto che altrimenti sarebbero rimaste chiuse e nascoste dentro lo spazio piccolo di una macchina fotografica digitale. E così andando avanti, l'attenzione si sposta dalla nostra identità di utenti, di consumatori, di persone non più come un prisma con tante sfaccettature, quindi non tanto dal come ti condividi, ma in realtà con chi ti condividi. L'attenzione si sposta adesso su quelle che sono le relazioni sociali che le piattaforme tecnologiche e digitali permettono di moltiplicare e di attualizzare. Questo lo vediamo guardando al nome che usavamo per i nostri indirizzi di posta. Non so voi, ma io ho diverse caselle, ne uso principalmente una che ha il mio nome e cognome, ma non ho iniziato così nella rete. Ho iniziato con un nomignolo. Questa radice lunga su come è cambiato il nostro rapporto e la nostra connessione con questo tipo di strumenti. Twitter è ancora un po' una zona di purgatorio perché c'è chi ha il proprio nome reale, ma ci sono anche dei nickname. Per arrivare poi a questo tipo di comportamenti che ci piacciono o no sono comunque esistenti, per cui addirittura esistono i profili di coppia, quindi l'identità di coppia ha una vita propria che va oltre quella del singolo uomo o donna o altro. Arriviamo al 2009. Nel 2009 succede una cosa importante, ci rendiamo conto che dire dove siamo è una cosa che interessa molte persone, soprattutto chi magari ci vuole svaliggiare casa, a parte gli scherzi. Foursquare con il suo sistema di gamification, cioè di trasformare un'attività digitale in un gioco perché più si condivideva la propria location e a seconda dei pattern di queste condivisioni gli utenti potevano ricevere degli adesivi, dei badge, quindi una cosa molto molto semplice però che ha guidato il nostro comportamento e ci ha reso spontaneo condividere in qualsiasi momento via via le nostre location, cosa che si tende a fare molto spesso per vanità. In ogni caso iniziamo a farlo e in questi anni ci appropriamo degli spazi fisici con i flash mob, non c'era campagna di marketing o di comunicazione che non avesse un flash mob, no? Facciamo un flash mob, era la nuova frontiera dopo il facciamo un video virale. Questo è un famoso flash mob di T-Mobile fatto a Londra, alla stazione di Liverpool, semplicemente dove in una mattina qualunque tra i pendolari sorgeva questo movimento spontaneo di danza e ovviamente lo spot è stato costruito su quella che è stata la prima reazione degli astanti, cioè riprendere questo avvenimento e condividerlo con le persone e così in linea con il claim di Lies for Sharing, la vita è fatta per condividere dell'operatore telefonico. E' anche l'anno in cui il marketing capisce che per attirare la nostra attenzione deve fare uso di strategie di comunicazione archetipali, di storytelling, no? Ne abbiamo appena finito di parlare, cioè figure universali, costanti attraverso nazioni e lingue. Chi è di noi che non ha mai sognato nella vita il lavoro perfetto? L'ente del turismo del Queensland in Australia si è inventato questa campagna basata sulla figura del guardiano, l'archetipo del guardiano. Diventa guardiano di quest'isola, sarai pagato con uno stipendio straordinario per sei mesi, tutto spesato, potrai portare chi vuoi e le tue attività lavorative saranno quelle di documentare la vita sull'isola, andare a fare immersioni, andare in giro, controllare che il faro funzioni, scattare delle foto, una cosa molto molto appetibile ed è stata una campagna che ha riscosso, che ha fatto parlare di sé in tutti i paesi del mondo per la sua semplicità e per la sua capacità di parlare, di far vibrare le corde di ciascuno spettatore di questa campagna, che non era, era una cosa a metà tra campagna e promessa di lavoro ed un modo per costruire la propria storia personale. Nel 2010 il re è nudo, Wikileaks spalanca le porte verso un nuovo tipo di sensazione e di aspettativa dei consumatori rispetto a quelle che sono le istituzioni e tra esse anche le aziende. Ci si rende conto che quello che i consumatori vogliono veramente è fare esperienze autentiche, non vogliono filtri e si sentono ingannati il doppio nel momento in cui scoprono che un'azienda non si comporta in maniera etica. Diciamo che Wikileaks ha messo in luce proprio la capacità delle piattaforme tecnologiche di squarciare il velo dei maia che ci ha fatto illudere molte volte su quelle che potessero essere i fini e gli obiettivi delle istituzioni e sicuramente questo è uno degli elementi che ha cambiato le carte in tavola. Nel 2011 passiamo tutti per Angry Birds, il primo giochino per device che ha dato vita ad un vero e proprio franchise, cioè un impero mediatico costruito su questi personaggi, un impero cross mediale perché si parte dal videogioco e si arriva poi ad una quantità innumerevole di merchandising, di gadget, di prodotti collaterali a quello che è il prodotto principale, cioè il videogioco. E qui ci si rende conto che il gaming, lo vediamo oggi con Candy Crush, è un qualcosa che entra in pieno diritto nella nostra quotidianità. Vi basterà entrare in pullman, in metro, una mattina qualsiasi e vedere le persone che giocano tutti allo stesso gioco, dice qualcosa di noi. Dice il fatto che ormai i giochi hanno imparato a farlo, ma ci sono tantissime altre app che hanno imparato ad abbinare automaticamente, quasi non ce ne accorgiamo più, un'azione che è quella appunto di aprire Facebook, aprire Instagram oppure aprire un gioco in presenza di un certo simulo emotivo, cioè la noia, soprattutto la noia. Queste app si sono trasformate in qualcosa di sticky, in grado di attaccarsi alla nostra attenzione e molti dicono oggi che per lanciare un nuovo prodotto digitale bisogna progettarlo come un antidolorifico, come un qualcosa che risolva un problema. Qual è il problema che risolvi? In realtà se ci facciamo caso queste app come Candy Crush, come Angry Birds, come Instagram non risolvono un problema, semplicemente nascono come vitamine, come un qualcosa che enfatizza la nostra esperienza quotidiana a tal punto che dopo mesi, anni di utilizzo il togliercele diventerebbe poi quello il vero problema. E sicuramente pensateci, la prossima volta che aprite Facebook e iniziate a scorrere la timeline senza neanche accorgervi il perché o in maniera quasi ipnotica, è perché Facebook e il design di questi prodotti digitali ha fatto in modo da abbinare la sua esperienza d'uso a quella che è la vostra esperienza interna emotiva di noia o voglia di condividere un determinato momento. Sono questi gli anni nel 2001 che abbiamo la capacità dei social media di filtrare e narrare la realtà anche socioculturale, sociopolitica che avviene intorno a noi. Questa foto celebre in occasione degli scontri a Vancouver dopo un match sportivo ha fatto il giro del mondo e anche questa è in grado di risuonare con l'esperienza di ognuno. In questo caso specifico la storia era che questa ragazza era stata strattonata da un poliziotto e il ragazzo era lì a confortarla. Quest'immagine sui social così potente è diventato un mezzo di espressione per tantissime persone. O ancora andando avanti la situation room, anche questi mezzi digitali ci hanno reso possibile entrare in maniera quasi intimistica nella vita delle altre persone, addirittura anche di un comitato di crisi di questa caratura. Siamo abituati quindi e pretendiamo di voler guardare dentro quello che succede nella vita di celebrità, attori o politici. Ancora il fenomeno Occupy Wall Street, amplificato o reso possibile dai social media. O la nostra abilità vogliristica di entrare e vivere anche qui narrazioni archetipali, qui c'è l'archetipo del sovrano. Quante volte capita nella vita di assistere ad un matrimonio reale e qui si sono scatenate le campagne di marketing, si sono scatenate anche i prodotti legati a questa ricorrenza e ovviamente tutto ciò che è stato la Royal Mania, Royal Wedding, Royal Baby ha creato una conversazione costante sui social. La tecnologia ci ha anche aiutato in quelle che sono state le esperienze drammatiche e disastrose come i terremoti. Se pensiamo alla prima istanza in occasione del terremoto in Giappone quando Google attivò questa piattaforma per permettere, per facilitare il ritrovamento delle persone scomparse al più recente safety check di Facebook. Nel 2012 scoppiano poi in pieno le device wars, la guerra competitiva di marketing tra Apple, Samsung, Microsoft, Google e le abbiamo sentite tutte, no? Le storie che poi ci rimangono impresse nella testa, nella causa legale tra Apple e Samsung, Samsung ripaga con un camion di monetine per farsi beffe dell'altra azienda. Sono battaglie che noi vediamo con i nostri occhi ma che non fanno altro che provocare per noi un miglioramento del mercato, un'intensità competitiva che migliora i prodotti, fa sviluppare nuove funzionalità e noi consumatori non possiamo che beneficiare ovviamente in termini delle nostre esperienze di consumo. Nel 2012 spalanchiamo gli occhi quando Facebook acquista Instagram. Acquista Instagram un'applicazione apparentemente semplice ma che in realtà anche questa è diventata un caposaldo della nostra quotidianità e fa capire quanto in realtà le fotografie ieri e i video oggi siano dei veicoli di sviluppo enorme per Facebook. Assistiamo poi a campagne di marketing che sono per metà anche campagne scientifiche. Se vi ricordate Red Bull Stratos un esperimento, una campagna durata anni di ricerca con l'obiettivo di sperimentare gli effetti della gravità sull'uomo per cui Red Bull ha sponsorizzato questa ricerca in cui Felix Baumgartner si è letteralmente buttato, è saltato sopra la nostra terra ed è stato ripreso in tempo reale con uno streaming su YouTube guardato da 7 milioni di persone. Ci aspettiamo quindi, cioè facciamo esperienza di marche che vogliono diventare portavoce di un nuovo progresso, di nuova ricerca. Cos'è questa? È una campagna di marketing o è ricerca? Sicuramente è un qualcosa su cui riflettere nel momento in cui poi facciamo un'esperienza di consumo di un prodotto Red Bull. Nel 2013 ci rendiamo conto che in realtà il primo vero grande social network l'abbiamo sempre avuto nelle nostre tasche ed è appunto la rubrica del nostro cellulare. Con Whatsapp inizia anche qui uno scenario competitivo molto intenso su quello che è l'instant messaging, una tecnologia che abbiamo sempre avuto ma che in realtà ha semplicemente cambiato veste. Se pensiamo a ICQ prima, a Windows Messenger poi e poi via via queste altre applicazioni che hanno più attecchito con lo sviluppo dei device mobile. Per arrivare poi a Snapchat, il mezzo più effimero di instant messaging o anche Telegram, adesso la comunicazione diventa veloce, immediata, ancora più fugace. E questo ritmo veloce, questa velocità ha cambiato anche il modo in cui le agenzie producono le campagne pubblicitarie e come noi ne veniamo a conoscenza ed iniziamo a fruirne. Questo è l'esempio che ha dato vita al cosiddetto real time marketing, la capacità del marketing di intervenire in tempo reale, di intercettare una notizia, un evento e di trasformare quell'evento in un qualcosa che veicoli i valori del brand. Questo è un tweet pubblicato da Oreo, l'azienda di biscotti, in occasione del Super Bowl di qualche anno fa. Durante questo match ci fu un blackout che durò 20 minuti, mezz'ora quasi, e in questa mezz'oretta l'azienda insieme alla sua agenzia ha realizzato ed approvato questa creatività, che altro non è che un banale gioco di parole sul fatto che ci fosse un blackout in corso, e di fatto ha avuto un'attenzione, una condivisione senza precedenti. E oggi infatti è di uso comune, pensiamo ad aziende come Ceres, sfruttare questo tipo di linguaggio e di immediatezza, cioè di essere sul pezzo della notizia. La nostra esperienza adesso di consumo fa sì che ci aspettiamo che le marche seguano le conversazioni esattamente come le seguiamo noi. E di questo ovviamente i social media sono in gran parte responsabili. Abbiamo visto poi la campagna Share a Coke che ci ha fatto capire quanto siamo pronti a condividere foto di prodotti nel momento in cui semplicemente c'è il nostro nome sopra. Piccola banale intuizione da parte di Coca-Cola. Ma abbiamo anche visto come la nostra voce, se canalizzata per bene, può dare vita al rilancio di certi prodotti, visto che tantissimi consumatori richiedevano ad Algida la reintroduzione sul mercato del winner taco, tanto hanno insistito che ci sono riusciti. Guardiamo le aziende, tornando all'autenticità di cui parlavamo prima, ci interessano certi aspetti privati della vita di CEO pubblici, come Tim Cook. Per cui non, anzi, potrebbe essere un plus sapere quali sono i punti di vista e le prospettive delle persone che ci lavorano. Quindi si passa dal posizionamento del mercato al prendere una posizione nei confronti del proprio mercato. Siamo al 2014 nel pieno della sharing economy, quindi fioriscono piattaforme come Uber, come anche Airbnb. E ci troviamo quindi a fare esperienze di consumo in un mercato abbastanza strano. Un mercato in cui la più grande compagnia telefonica, tra virgolette, non possiede telefoni o cavi telefonici. Un mondo in cui, andando avanti, il più grande rivenditore al dettaglio non possiede prodotti fisici né gestisce magazzini. Un mondo in cui il più grande cinematografo non possiede sale. La sharing economy passa necessariamente dalla dematerializzazione e dalla disintermediazione dei mercati attuali. Ci siamo poi divertiti un'estate a farci docce gelate per supportare una causa di cui molti prima probabilmente non ne conoscevano neanche l'esistenza. Però anche qui, dinamiche di condivisione virale e di condivisione basata sull'archetipo, l'archetipo di chi presta le cure, di chi è dell'aiutante, connesso ovviamente con il contrasto del ghiaccio in estate, ha creato una campagna di estremo successo. Selfie, selfie dovunque, credo ci sia anche un libro su questo tema all'ingresso. E addirittura noi ricorderemo il 2015 come l'anno in cui purtroppo ci sono stati più decessi causati da selfie che da squali. Nel 2015 succede anche che incredibilmente si riesce a ravvivare un'industria che da almeno due decenni era in sofferenza e parliamo dell'industria discografica. Adele, la mia omonima, riesce a infrangere qualsiasi record di vendita, siamo se non mi sbaglio intorno agli 8 milioni, una cifra del tutto senza precedenti, dando un po' speranza a questo settore e la musica, ci tengo a sottolinearlo, è un aspetto molto importante del mercato perché tendenzialmente le grandi rivoluzioni passano prima dalla musica, se pensiamo a Napster che è stato il primo mercato tradizionale ad essere travolto dall'avvento del digitale. E' l'anno in cui, il 2015, in cui comunichiamo di più con gli emoji che con le parole, a tal punto che il dizionario di Oxford ha decretato questo emoji in particolare come parola dell'anno e chissà che evoluzione avranno le emoji nei prossimi anni a venire, sarà curioso scoprirlo. E' l'anno in cui, e ne parleremo tra poco di ad blocking, è l'anno in cui la pubblicità entra in crisi semplicemente perché esistono sempre più strumenti che danno all'utente la possibilità di stoppare pop-up e qualsiasi tipo di pubblicità online. In che mondo viviamo se i pubblicitari stessi, cioè i pubblicitari si trovano per esempio su YouTube a fare delle pubblicità però appena te la faccio partire ti dico che tra 5 secondi puoi saltare questo annuncio. Cioè già so che ti sto creando un disagio, lo so, quindi aspetta 5 secondi e ti tolgo questo disagio. E' sicuramente una cosa su cui il settore e il marketing deve riflettere molto e in questo ci aiuterà Antonella tra pochissimo. Andando avanti, siamo nell'anno in cui tra smartwatch, wearable, i dispositivi indossabili dopo un abbastanza tentativo fallito di Google di lanciare gli occhiari Google Glass è l'anno in cui esplode letteralmente il mercato di dispositivi aggiuntivi oltre al nostro smartphone. E' l'anno in cui il video inizia ad entrare definitivamente con forza nelle nostre vite quotidiane, nei nostri consumi, con prodotti che permettono la diretta live. Anche qui una tecnologia che già era disponibile ma che improvvisamente diventa di moda. Diventa appetibile per noi aprire Periscope e raccontare attraverso i nostri occhi un evento oppure andando avanti attraverso Facebook con la sua più recente introduzione di questa stessa funzione. Arriviamo quindi al 2016 e andiamo avanti. Cerchiamo in questo momento del nostro viaggio nel tempo di fare una velocissima carrellata delle esperienze che forse inizieremo a fare tra poco nel mondo dei consumi. A che cosa potremmo doverci abituare? Alla realtà virtuale, per giocare ma anche per fare delle esperienze di vita immersive di cui ancora forse non ne afferriamo la portata. Ci potremmo abituare a macchine senza conducente, sono sempre di più gli esperimenti non solo di smart car ma anche di macchine in grado di pilotarsi da sole e pensate a quale cambiamento di infrastruttura questo tipo di innovazione potrebbe comportare. A case sempre più digitali, quindi dove un unico device mi permette di controllare diversi dispositivi. ci sembrano realtà ancora un po' vicine ma ancora un po' distanti semplicemente perché non esiste ancora la killer application, il Facebook di turno che ci rende questo tipo di realtà molto vicina e quotidiana. O i bot, le intelligenze artificiali sono il grande tema adesso, ne ha parlato Facebook proprio di recente la capacità sempre di più di interagire con le aziende e fare esperienze con le aziende attraverso un format che ricorda appunto quello dell'instant messaging. Sempre di più le aziende dovranno dotarsi di sistemi di intelligenza artificiale in grado di interpretare quello che noi scriviamo e creare quindi un nuovo linguaggio in grado di rispondere a quelle che sono essenzialmente richieste di consumo, di acquistare prodotti o servizi. La criptografia, altro tema, quanto siamo, quanto i nostri dati sono veramente al sicuro nei nostri device e chi ha seguito la battaglia tra Apple ed FBI e più di recente tra Microsoft e il governo americano sa che questo è un tema molto caldo quindi sicuramente quello che possiamo consigliare oggi è di mettere il pin ai vostri device se non l'avete già fatto. E poi, sempre di intelligenza artificiale, abbiamo assistito ad un evento storico cioè nell'ambito del progetto AlphaGo di Google per la prima volta un'intelligenza artificiale non solo è riuscito a battere un suo avversario umano ma è riuscito a batterlo sviluppando una mossa che è in tutto e per tutto simile alla nostra capacità di intuito cioè per la prima volta una macchina è riuscita a fare una mossa che sembrava senza significato apparentemente ma che in realtà è stata poi la mossa vincente per vincere quella partita. Potremmo iniziare a viaggiare in maniera molto più veloce rispetto a quella attuale grazie a sistemi di trasporto ad aria compressa come Hyperloop questa è una delle idee proposte da Elon Musk e ci sono un paio di aziende che stanno provando a trasformare questo nuovo concetto in realtà, concetto che ci permetterebbe di fare viaggi che oggi impiegherebbero 4-5 ore per guidare permetterebbero di accorciarli a mezz'ora connettendo quindi città in tanti paesi dai più industrializzati a quelli meno. E poi c'è tutto il tema dello spazio esplorazione su Marte, anche qui ci siamo avvicinati a questo tema grazie al film The Martian ma è stato da poco anche annunciato un progetto di Stephen Hawking e di un milionario russo chiamato Starshot cioè la capacità di visitare Alpha Centauri che è la stella a noi più vicina cercando di diminuire quelli che sono i tempi di viaggio perché secondo questo progetto ci vorrebbero 20 anni per raggiungere questa stella raccogliere le informazioni e 5 anni affinché questi dati tornino poi a noi anche qui il viaggio nello spazio c'è sempre stata presentata come una realtà molto lontana ma stiamo iniziando a fare piccoli grandi passi verso anche questo tipo di esperienze. Per concludere questo nostro viaggio nel tempo proviamo a farci questa domanda cosa vuole la tecnologia che ci ha sconvolto così tanto la vita e sicuramente anche il modo in cui le aziende comunicano e vendono prodotti. La tecnologia, partiamo dal Big Bang, il primo vero esempio di tecnologia che abbiamo documentato non è altro che un gioco infinito, l'obiettivo della tecnologia è giocare a un gioco infinito cioè un gioco il cui unico scopo sia quello di continuare a giocare e nel giocare quello di permettere l'espansione del nostro potenziale e delle esperienze che viviamo ogni giorno. Grazie. Grazie.